ha gestito il passaggio a società quotata affrontando numerose tematiche giuridiche e supportando la crescita della società con il raddoppio del fatturato nel giro di cinque anni in particolare ha supportato le funzioni di business nell'implementazione della trasformazione digitale del gruppo e anche in questo caso la domandina chi dei due tocca a lui e facciamo cavaliere via hashtag successo tecnologico